ciao sono il dottor max che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo in questa nuova serie di video dedicata ai parafarmaci ti leggerà i foglietti illustrativi degli stessi prima di iniziare ti ricordo di iscriverti al canale mettere un mi piace al video e commentare con le tue esperienze personali in base ai prodotti utilizzati in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile a tutti che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute grazie alle esperienze condivise in questo video esaminiamo il parafarmaco emulsione viso a cosa serve emulsione viso a un parafarmaco appartenente alla categoria degli idratanti normalizzanti protettivi viso giorno è commercializzato in italia dall'azienda biofficina srl informazioni commerciali titolare biofficina srl concessionario biofficina srl categoria di appartenenza idratanti normalizzanti protettivi viso giorno confezioni emulsione viso emulsione viso idratante 50 ml indicazioni per pelli giovani e delicate una crema leggera e delicata ma ricca di principi attivi idratanti lenitivi e protettivi come il licopene unito con idropom l'olio di riso e gli estratti bio di camomilla calendula ed arnica svolge un'azione emolliente e preventiva contro i segni del tempo donando alla pelle un aspetto tonico e luminoso dal lieve profumo di rosa e camomilla modalità d'uso applicate il prodotto mattina e sera su viso collo e di a copyright con l'età copyright massaggiando delicatamente può essere abbinata con il siero viso rigenerante componenti e ingredienti acqua di caprilli letter gliceril stiarate citrate glicerine ceteari l'alcool deciloleate gliceril caprilate caprilic barra capric trigliceride ceti l'alcool etilex il palmitate etilex il stiarate squalane solanum licopersicum fruit extract arnica montana extract calendula officinalis flower extract camomilla recutita extract olea europea fruit oil orizza sativa bran oil antemis nobilis oil idrogenate d'olive oil olea europea un saponi fiables rosa damasceno flower oil ceratonia siliqua gam xanthan gam lecetine tocopherol sodium ialuronate ascorbil palmitate benzil alcohol parfum lactic acid geroniol linalool citronillol limonene citric acid amil cinnamal da agricoltura biologica barra biodinamica sostanze funzionali idropomam archioregistrato estratto brevettato biolique fatto di bucce di pomodoro all'alta concentrazione di licopene estratto di pomodoro olio igp bio di oliva toscano insaponificabile dell'olio di oliva olio di riso ed estratti biologici e biodinamici toscani di arnica calendula camomilla fonte codifa l'informatore farmaceutico grazie per avermi seguito fino a qui spero di esserti stato utile iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video buon proseguimento ci vediamo al prossimo paratarmaco esaminato